È stato approvato il piano operativo per la viabilità a Gela in caso di incendio nella raffineria. L'incontro si è tenuto in prefettura dove sono stati analizzati tutti i possibili rischi. Il prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia, ha presieduto una seduta del comitato operativo viabilità che si è tenuto presso la sala riunioni della prefettura allo scopo di esaminare ai fini della sua approvazione il piano operativo per la viabilità costituente uno dei documenti integranti il piano di emergenza esterna per gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante denominati raffineria ed eco-righen, siti incontrata a Piana del Signore nel comune di Gela, nella provincia nissena. All'incontro hanno partecipato fra gli altri la dottoressa Pinuccia Agnello, questore di Caltanissetta, i comandanti provinciali dei carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, il vice comandante della Capitaneria di Porto di Gela, rappresentanti della Polstrada, del comune di Gela, della Rete Ferroviaria Italiana, della Direzione Regionale territoriale di ANAS e del SUES 118. Il prefetto, nel prendere atto dell'unanime condivisione da parte dei presenti del contenuto della documentazione di protezione civile, ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato conseguito, ritenuto di fondamentale importanza ai fini della redazione del piano di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sopra menzionati. Il consesso, inoltre dopo una breve discussione, ha approvato e sottoscritto il piano operativo per la viabilità, condividendo l'auspicio del prefetto di pervenire in tempi brevi alla stesura del documento complessivo di protezione civile funzionale a tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini gelesi nell'eventualità del verificarsi di un incidente negli impianti industriali denominati raffineria ed eco-righen presenti nel comune di Gela.